I finanzieri del comando provinciale di Salerno hanno scoperto e sottoposto a sequestro nella zona industriale del capoluogo la cisterna interrata di un distributore stradale dopo avervi trovato oltre 34 mila litri di gasolio allungato con l'acqua. Le fiamme gialle durante un'attività di controllo hanno notato alcune autovetture in avaria che stavano per essere prelevate dal carroattrezzi. Insospettiti dall'inusuale circostanza, i militari hanno chiesto informazione ai conducenti, i quali hanno tutti riferito di essere rimasti in panne subito dopo aver effettuato il rifornimento di gasolio presso lo stesso distributore. Raggiunta la stazione di servizio, i finanzieri hanno individuato il serbatoio da cui proveniva il prodotto incriminato e utilizzando uno speciale prodotto che consente di rilevare la presenza di acqua, ne hanno constatato una percentuale eccessiva negli oltre 34 mila litri di gasolio. I militari hanno perciò provveduto al sequestro della cisterna e del carburante miscelato, mentre il gestore dell'impianto è stato denunciato a piede libero alla competente autorità giudiziaria per il reato di frode in commercio.